Bene ragazzi, benvenuti a quest'ultimo appuntamento di questa stagione sul post Genoa-Atalanta 1-2. L'Atalanta chiude in bellezza, così dire, abbiamo, come sapete tutti, vinto 2-1 contro il Genoa e penso che sia, secondo me, una vittoria un po' inaspettata, anche perché il Genoa doveva assolutamente vincere per cercare di migliorare la propria posizione in classifica, mentre per noi effettivamente perdere oppure vincere, certo, c'è una bella differenza, però ormai siamo anche a fine stagione. Invece, per fortuna nostra non è stata così e pensa, io l'ho vista in streaming, però da quello che ho potuto vedere e l'ho vista praticamente tutta, non è stata una bruttissima partita, anzi, soprattutto si è espresso un bel gioco sia da parte nostra sia da parte della squadra del Genoa. Abbiamo concluso in maniera di buona il campionato con le ultime partite, comunque fornendo delle belle prestazioni. Cercando comunque di arrivare sempre alla vittoria, tranne nell'ultima partita in casa con l'Udinese, che non dico che tre virgolette era combinata, ma si sapeva già che doveva finire in un pareggio. Di questa partita qua gli esordi del portiere serbo Radunovic e anche di Gagliardini, secondo me sono stati buoni, soprattutto il portiere che negli ultimi minuti ha quasi salvato anche il risultato, quindi in prospettiva per la prossima stagione abbiamo una buona squadra, che se la società non rifà gli errori fatti a Gennaio, penso che ci possiamo piazzare meglio rispetto a questa stagione. Comunque in virtù dei 24 punti del girone di andata abbiamo totalizzato 45 punti, che non è male. Come dico sempre, io ho peccato per quelle 14 partite famose, dove non sei riusciti a vincere, perché con questa squadra, come ha detto Reia nelle varie conferenze stampa, è una squadra da 50 punti. Però ormai quest'anno è andato così, siamo ancora in Serie A, è andato tutto bene. L'ultima cosa, l'ultima notte, mi dispiace un po' per il Carpi, che come sapete ieri ha vinto con l'Udinese, però contemporaneamente il Palermo ha vinto 3-2 contro il Verona, mi dispiace anche perché sinceramente preferivo che andasse in Serie B il Palermo e non il Carpi, anche per il gioco espresso, e soprattutto perché era una neopromossa, e comunque in varie parti della stagione, soprattutto nel girone di ritorno, ha fatto vedere belle cose. Bene, anche questa stagione è conclusa, e anche questa pagina è un po' andare in vacanza, nonostante vi ricordo che pubblicherò altri due video, uno su Bellini, anzi tre video, scusate, uno su Bellini, uno sull'Atalanta di questa stagione, e l'altro sulle Bergamasche in generale, quindi Atalanta, Albinoneff e tutte le squadre Bergamasche, un Forza Atalanta sempre e comunque. Il prossimo appuntamento della prima gara ufficiale della prossima stagione sarà il 14 agosto nel terzo turno di Coppa Italia. È tutto, un Forza Atalanta sempre e comunque. Alla prossima!